Ciao Lignaccio Ci sono anche i Papa Boys che poi la vogliono salutare e anche intervistare però dovremmo passare da questa parte però noi ci troviamo dentro la nave perché aspettiamo poi per salire il prefetto sta arrivando, l'ho chiamato al telefono? C'è anche Don Paoletto Sì Don Paolo La Madonna di Bonari è arrivata al porto di Oristano e qui sono tutti i volontari pronti il simulacro della Madonna la cambia da accesa tra minuti scenderà dove è stato allestito il palco Maolo, non dorsi Maolo, non dorsi Grazie a tutti. Siamo malati a porta. Ti devo dare l'effetto del... Ecco il sindaco di Santa Giusta. Parroco di Santa Giusta. Parroco di Santa Giusta. Parroco di Santa Giusta. Parroco di Santa Giusta.